benvenuti a questa nuova edizione del podcast della stampa di cesana io sono fabrizio frattini qui accanto a me c'è il nostro direttore lorenzo del bocca come sempre parliamo dei temi centrali delle nostre varie edizioni allora direttore abbiamo due temi centrali come detto in questa nuova edizione della nostra dei nostri giornali di che cosa parliamo esattamente dunque intanto c'è la festa della donna che essendo metà settimana si è dipanata fra domenica scorsa e questa prossima domenica nei discorsi che le donne fanno lamentano la difficoltà di inserirsi nel mondo industriale e produttivo in una sorta di parità di genere rilevano che le aziende che hanno dei manager donna hanno una resa del 5 per cento in più in realtà noi non riusciamo ad acquisire un numero sufficienti sufficienti di donne amministratori delegate siamo gli ultimissimi in europa noi abbiamo approfittato per fare un'inchiesta e siamo stati a stresa dove la manifestazione vino singolare femminile allineato una serie di imprenditrici agricole donne che abbiamo intervistato che hanno dimostrato un entusiasmo del tutto straordinario certo noi nel mondo occidentale abbiamo il problema di migliorare la dinamica femminile e di migliorarne la partecipazione sociale però c'è una grande fetta del mondo dove questi temi sono addirittura lontanissimi e ancora di là da venire gravellona ha inaugurato una mostra dedicata alle donne iraniane che non hanno volto non hanno voce quasi quasi non hanno occhi perché li devono nascondere e un'iraniana personalmente senza burca e quindi con i capelli sciolti ha partecipato a una manifestazione in piazza domodossola un altro tema significativo è la quaresima che è entrata nel cuore le due manifestazioni principali sono state i detenuti che hanno animato una via crucis che si è dipanata fra domodossola e calvario e le prove degli attori che dovranno recitare la passione del venerdì santo che continuano a romagnano sesia acqua rona e maggiore che dopo una lunga interruzione sta riprendendo questa manifestazione poi andiamo alle nostre edizioni del sud qui la carne al fuoco è parecchia anche di varia tematica si parte dalla prima pagina con il consiglio comunale poi si va ad altre tematiche amministrative e novara ha problemi per quel che riguarda i lavori pubblici si pensava di concludere i lavori per la tangenziale e invece è arrivato lo stop della procura di milano che ha trovato un'azienda che portava del materiale di riempimento non ecologicamente certificato e anzi inquinante per cui i lavori hanno dovuto fermarsi quanto al cavalcavia 25 aprile è ancora sotto sequestro e l'area logistica di pernate ha suscitato delle polemiche perché è un comitato spontaneo e alcuni membri della minoranza consigliare hanno contestato il progetto perché consumerebbe troppo suolo il consiglio comunale lo ha approvato ma con una serie di polemiche anche importanti e anche vehementi a gagliate con più tranquillità stanno immaginando di presentare un libretto di 16 pagine intitolato mille e anta anni fa è un'iniziativa del gruppo dialettare e il libro è dicono loro da leggere e da colorare dedicato ai bambini in modo tale che possano comprendere conoscere appassionarsi della storia della città e farlo divertendosi o leggi invece a fame di case soprattutto casi in affitto perché è una zona strategica cavallo fra la lombardia e piemonte e ci sono più richieste che offerte e quindi i prezzi vanno alle stelle bloccando ancora di più un mercato già di per sé aspettico poi andiamo al centro e proprio oggi sono arrivati dei comunicati dell'autorità del po che gli segnalano il novarese come una delle zone più problematiche dal punto di vista della siccità e la siccità in prima pagina per quanto riguarda l'informatore infatti borgomanero ha sete ci sono i campi che muoiono di siccità l'erba è secca e quindi presumibilmente non ci sarà foraggio e tutti i fiumi sono diventati rigagnoli il rigagno gli stagni e gli stagni completamente con le zolle asciute i laghi sia il maggiore che quello di orta sono praticamente a livello minimo e non c'è speranza di poter alzare questo livello se non ci saranno delle piogge significative quello che non distruggono le siccità lo distruggono i cinghiali e infatti per esempio maggior ha immaginato di recintare una serie di appezzamenti di terra con dei recinti elettrici vorranno fare un impianto di 5 8 chilometri ne hanno già fatti tre i risultati sono positivi è naturalmente costosissimo ma è anche l'unica maniera per proteggere i raccolti gozzano festeggia i 50 anni della biblioteca che è stato un polo culturale di rilevanza significativa omi arona sta pensando al tredicino e quindi è in festa le iniziative cominceranno con un evento organizzato da arona da bolli dove immaginano di individuare attraverso una giuria di esperti quale sarà il miglior dolce e quale sarà il miglior cocktail è una specie di avvio alla festa del tredicino che riprende alla grande dopo gli anni di interruzione totale determinati dal lockdown e dal covid e da una mezza interruzione dell'anno scorso perché c'è stata la manifestazione ma senza il luna park che è considerata un'attrazione speciale turisti nell'aronese sul lago maggiore arrivano con numeri anche importanti c'è una statistica che viene da dormelletto che dice che sono in grande aumento le richieste nei campeggi della zona e poi andiamo al nord popolo dell'ossolo il verbano e l'informatore beh intanto il monte rosa dove l'alpache uno dei dei poi attrattivi del turismo corre il rischio di non essere fatta il comitato promotore ha firmato un comunicato che ha distribuito agli enti interessati facendo presente una serie di difficoltà le associazioni non aiutano nonostante siano state più volte richieste di interventi di aiuto i commercianti nella passata edizione sembra che abbiano offerto un contributo finanziario di poco più di 4000 euro e dicono i promotori che c'è anche qualcuno che arremmo contro nel contesto amministrativo una manifestazione che occupa un mese di eventi e che trascina in valsesia dal milione al milione e mezzo di persone è seriamente a rischio però per esempio in valsesia c'è anche una notizia positiva che è stato trovato a guarona un crocefisso del 1400 il più antico di tutta la diocesi e fra i più antichi d'italia il risultato è venuto da un'analisi al carbonio che l'ha datato 1480 1490 un piccolo tesoro che è stato recuperato quanto al nord l'ossola a crevola d'ossola è stato dato l'ok per ampliare la cava di marmo del l'orgino e poi domodossola presenta un libro a cura degli alpini in occasione del centenario della loro fondazione dedicato a don carlo righini che è stato parroco di beura cardezza ma anche cappellano delle penne nere verbagna in piena stagione turistica villa san remigio è stata restaurata in particolare le balaustre le statue e le terrazze sono state praticamente rimesse a nuovo e poi è stato dato un premio alle proloco più longeve più attive che sono quelle di mergozzo di cannero quasi al confine con la svizzera di chesio e di quarnasopra o meglio invece ha rinnovato i consigli di quartiere e come prima iniziativa il direttivo il presidente di questi comitati regionali si sono presentati nelle nelle vie nelle piazze nei loro parchi per fare pulizia ramazzo in mano e sacchi neri per dare dignità e pulizia ecologica le loro strade è stato immaginato un podcast ispirato a rodari un podcast in dieci puntate per raccontare i luoghi che hanno ispirato lo scrittore e per incoraggiare gli studenti e gli scolari a imitarlo bene chiudiamo qui questo podcast della stampa di cesana io sono fabrizio pratini accanto a me c'è il nostro direttore lorenzo del bocca vi ricordo che potete sempre consultare anche il nostro sito www.sdnews.it per notizie praticamente quotidiane un saluto alla prossima settimana